Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi posto la decklist di uno dei mazzi che volevo portarvi in realtà da diverso tempo, circa 2-3 mesi se non più ormai e il mazzo in questione è il Flanwell Zombie, che è un mazzo molto aggressivo ma allo stesso tempo ricco di giocate quindi se vi piacciono i mazzi che fanno tante cose, dentro Edison questo potrebbe essere l'ideale per voi ho provato varie versioni ma questa al momento è quella che mi convince di più, vedremo andando avanti se farò qualche cambiamento poi giustamente vi dirò i motivi per cui ho scelto determinate carte ma prima di continuare, se non sei iscritto al canale e ti piacciono contenuti retroformat come Edison per l'appunto o Tenguplant, Hutt o anche unboxing di prodotti vintage come puoi vedere appunto dal canale iscriviti a quest'ultimo, è gratis, costa pochissimo del tuo tempo ma soprattutto supporterà in maniera sostanziale il mio lavoro abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 3000 iscritti, vediamo di raggiungere quello dei 3500 non dico per la fine dell'anno ma pian piano un passo alla volta comunque passiamo diciamo alla parte che vi interessa di più, ossia la deck profile quindi gioco 3 Fire Dog, che sono un 1.9 fortissimo poi gioco 3 Marky Flanwell che avevo pensato anche di portare a 2 ma per ora mi sto trovando bene con 3 la cosa forte diciamo di questa versione che gioca per l'appunto i Flanwell Fire Dog che soffre meno da Drago lo dico perché sono appunto un giocatore assiduo di Drago e zombie di base soffre un sacco dal Drago Kokimeru essendo un 1.9 che è difficile da buttare giù in questo caso abbiamo anche il Fire Dog che ci può aiutare a schiantare in situazioni di emergenza e soprattutto ci permette di fare sincrotto in maniera molto molto facile continuando poi abbiamo due goblin zombie coreani secret se vi interessano appunto prodotti coreani vi invito sempre a visitare Jack Store con cui sono affiliato sfruttate il link appunto affiliati in maniera tale da poter contribuire con l'acquisto dei prodotti anche al canale ricevendo anche un codice sconto del 5% poi abbiamo il Maestro Zombie, Mezuki, Plug Spreader e lo Spirito Mietitore di base il... vabbè questi poco da dire per quanto riguarda lo Spirito Mietitore alcuni lo giocano alcuni no ma io preferisco sempre giocarlo nelle liste di zombie dato che diciamo è sempre una protezione ci aiuta anche a calare Kaius ci protegge dai mazzi aggro è veramente fortissimo in più oltre al reparto zombie ho deciso di giocare un piccolo reparto Lysworn che sono vabbè come sapete i classici due Rico e una Laila che è un po' il mio standard ormai in quasi tutte le liste caso che dovessi giocare un reparto con Lysworn non mi piace giocare tre Rico perché diciamo i Rico sono fortissimi ovviamente per le partenze però molte volte a me capita diciamo che siano una pescata morta mentre invece la Laila ci aiuta a togliere non solo diciamo qualche Becrom ma anche carte fastidiosi anche come appunto la Royal Oppression o qualche trappola continua insomma che potrebbe dar fastidio al mazzo mentre reparto Dark gioco il Summoner Monk dato che abbiamo tantissimi livello 4 all'interno del mazzo diciamo che può essere anche una sorta di Flamble Dog dato che appunto scartiamo una magia ci giochiamo il mago Flamble dal mazzo e appunto facciamo sincrotto facilmente poi il Pomodoro Mistico dato che appunto giochiamo vari Darks soprattutto anche i Zombie Doppio Kaios che devo essere sincero stavo valutando se portare a tre ma non ci sono riuscito con gli slot e poi il Dad e il Gords per quanto riguarda i mostri sarebbe fortissimo sarebbe utile giocare anche la Tragodia la Tragodia insomma non sono riuscito a trovare slot all'interno del main quindi lo spostato di Sideware che è sempre utile contro alcuni mazzi valutate l'utilizzo della Tragodia dato che è veramente forte e potete sincreare molto facilmente in questo tipo di mazzo per le spell che è anche il motivo per cui ho deciso di giocare in questa versione anche in reparto Sliceworn gioco 3 Rekindling giustamente che sono fortissime dato che non targettano queste qui sono veramente forti potete fare sincro spam grazie a sta carta e può ribaltare letteralmente una partita poi gioco vabbè due Book of Moon che sono anche abbastanza standard in Edison ci aiutano a fare protezione a buttare giù qualche difesa dell'avversario la Sepoltura Shock niente da dire la Brigata che ci aiuta sia a macinare magari qualche Flamwell quindi può scombare anche con questa ma anche ci aiuta a aggiungere la mano il nostro reparto Iceworn Typhoon Eveystone poi gioco sia il Brain Control che il Mind Control perché per l'appunto come vi dicevo abbiamo un ricco reparto cioè il ricco reparto tuner abbiamo ben 3 tuner livello 4 e possiamo sfruttare i nostri anche dell'avversario rubare anche un rico all'avversario dato che è abbastanza giocato e fare le nostre sincro e infine un libro della vita che per me è una carta veramente forte in zombie tant'è che se dovesse interessarvi vorrei portarvi una versione di zombie pura perché almeno lì posso giocarla a due questa carta lì ed è praticamente un corvo di D che fa anche da Reborn è vero che non puoi giocarla come effetto rapido ma è pur sempre una carta che toglie risorse all'avversario e in più ti fa fare special dal cimitero e sapete bene che il reparto zombie è veramente forte infine per le trappole gioco due bottomless e una prison qua potete scegliere se giocare due prison o due bottomless tant'è che gioco la seconda di side per quanto riguarda la prison diciamo va anche un po' a gusto personale io mi sono trovato bene così con gli slot se devo giocare contro Cristia per l'appunto vado a mettere anche la seconda prison e niente mi sto trovando benissimo così e tendo a precisare che gioco a 41 carte ma per chi segue il canale sa benissimo che è quasi uno standard del mio canale dato che sin da piccolo grazie un po' a Billy Brake vabbè questo è un po' off deck list però sa benissimo che grazie a Billy Brake sono andato un po' a giocare con la 41esima carta quindi abbiamo il Torrential, Call of the Haunted Mirror Force Solenne e infine la Dust Shot che è praticamente la carta del Matt ed è anche rara come potete vedere per l'extra vabbè gioco un Chimeratech un Braccio Arsenale ho deciso di giocarlo perché abbiamo sia il Plague Spreader Zombie nel mazzo e soprattutto abbiamo il Mind Control quindi molto spesso mi è capitato almeno avendo tutti e due in mano di trovarmi il Rico settato contro quindi era veramente forte in quanto gli facevo rubavo Rico di Mind Control scopro Rico, spacco Evoke Plug Spreader Zombie magari lo maciniamo e riusciamo a farci l'Armory Arm che per me è una carta veramente forte soprattutto in combo con il Colossal Fighter fighter veramente fortissimo che in Edison ricorda sempre quel ruling un po' bastardino poi gioco la Catastore è un androide magico che se non riuscire a procurarvi dato che è una delle carte che costa di più all'interno di Edison vi suggerisco di optare per Rukizas Flamvel mi pare si chiami così insomma il 6 diciamo fuoco poi gioco vabbè un Re Hades Rinato veramente fortissimo ovviamente il Goyo Brionac un Drago Fino Oscura un Arcidemone Dominatore dei Pensieri un Arcidemone Drago Rosso caso che non dovesse piacervi questo ma io vi consiglio di giocarlo dato che è un 3000 ma potete giocare il secondo di questo 1000 qui un Drago Rosa Nera che ho dimenticato di dover mettere prima ma vabbè il Colossal Fighter come vi dicevo un Vurn delle Nebbie che sì vi capita anche di calarlo stranamente ma fidatevi capita di calarlo e vi serve e infine i due Stardusti quanto riguarda il side io invito sempre a ragionare in base ai matchup negativi soprattutto in base anche a quello che portano i local e all'andamento del meta io vi faccio vedere quello che ho al momento che sono due Cyber Drago due Diddy Crow un Mono Kiko e Mono Tragodia e io giocherei direttamente due Kiko però non ci avevo l'altro quindi ho messo la Tragodia come vi dicevo che è ugualmente una carta fortissima per questo tipo di mazzo poi l'altra Prison che vi accennavo prima la Mask of Restrict Dust Tornado doppio muro di ferro imperiale che con Kiko danno un sacco di fastidio anche al maledetto Pagioturbo perché ci ha un po' rotto le scatole questa che è sempre utile non sono riuscito a trovare lo spazio per giocarla di main ma onestamente lo farei e infine la Starlight Road che è potentissima contro mazzi soprattutto come Blackwing io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto ma prima di lasciarci un piccolo quesito riguardo il prossimo video io vorrei portare anche più contenuti in merito a Tengu Plant ma non trovo tanto tempo per testare dato che giustamente è meno famoso rispetto a Edison ma filatevi e vi prometto che prima o poi caricherò la prima techlist Tengu Plant quindi mi scuso in anticipo per questo tuttavia il quesito riguardo il nuovo video a parte quello dell'unboxing volevo chiedervi quale altra lista vorreste vedere fra o Flamble e Lightsworn oppure Hero Diva Zombie quindi un bel mistone come piace a noi che però sa cavarsela quindi vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale qualora dovessero interessarvi questo tipo di contenuti grazie ancora e arrivederci al prossimo video see you next time